Benvenuti ragazzi ho pensato di fare un piccolo stacco rispetto ai video che sto facendo ultimamente che parlo abbastanza di cose attuali insomma, dedicando una mini serie di video due, tre, quattro, quelli che serviranno a un piccolo approfondimento su alcune tecnologie e vorrei iniziare a parlare delle tecnologie delle batterie un argomento che può sembrare magari un po' ostico magari alcuni può dire che me ne frega me della batteria in verità è l'argomento che ci tocca tutti da vicino perché con gli smartphone, i tablet, i dispositivi mobile che abbiamo in questi giorni la durata della batteria è sempre quella caratteristica che ci costringe a volte a... ci crea problemi di ergonomia del dispositivo stesso lo smartphone che si scarica, che non si arriva fino a sera è sempre una gran seccatura dovete sapere che ci sono però molte tecnologie nel campo delle batterie ovviamente in sviluppo per migliorare le caratteristiche di una batteria migliorare l'autonomia, migliorare la velocità di ricarica migliorare anche la sicurezza ecco, questi sono i tre campi fondamentali su cui i vari gruppi di ricercatori stanno lavorando quindi ripeto, autonomia quindi la capacità della batteria la velocità della ricarica e appunto la sicurezza della batteria stessa in questo primo appuntamento non voglio però parlare di quelli che sono gli sviluppi futuri perché ci saranno alcune cose abbastanza scientifiche che ovviamente cercherò di rendere i più semplici possibili che bisogna sapere per capire effettivamente quello su cui questi gruppi di ricercatori questi scienziati stanno lavorando quindi faccio questo primo video questa parte introduttiva che voglio raccontarvi in maniera semplice però come sono le batterie di oggi e come funzionano quali sono le caratteristiche proprie le batterie lo saprete tutti l'avete sentito dire tantissime volte le batterie che c'è all'interno dello smartphone all'interno del tablet ma anche all'interno delle videocamere di tutti gli dispositivi portatili sono batterie a litio agli ioni di litio in verità ci sono batterie agli ioni di litio ai polimeri di litio diciamo che le batterie agli polimeri di litio sono quelle uscite un po' dopo gli ioni di litio e sono un pochettino più flessibili nel senso che la soluzione che viene utilizzata appunto per creare queste batterie ha uno stato solido chiamiamolo così che può essere manipolato in forme più consone all'uso in dispositivi mobile in altre parole come dimensioni come caratteristiche fisiche la tecnologia di polimeri di litio rispetto a quelle di ioni si può plasmare si può creare in quelle batterie sottili che vediamo all'interno dei nostri smartphone ma come funziona la tecnologia a litio perché comunque sono tecnologie basate sulla chimica del litio come funziona una batteria in generale per dare energia ai nostri dispositivi semplificando al massimo immaginate di avere un corpo creato da due estremità un anodo e un catodo l'anodo è il polo positivo il catodo è il polo negativo all'interno ci sono appunto questi ioni di litio caricati positivamente che si muovono dall'anodo al catodo all'interno di una sostanza chiamata elettrolita durante questo passaggio trasportando una carica positiva rilasciano appunto energia energia che viene rilasciata al circuito e che quindi permette ai nostri dispositivi di funzionare durante la ricarica questo movimento di particelle caricate funziona al contrario quindi va dal catodo all'anodo e la quantità di particelle che questo anodo questa parte della copertura della batteria può assorbire definisce la capacità della batteria più particelle può assorbire più la capacità della batteria è elevata e di conseguenza l'autonomia mantenendo fisso il dispositivo l'autonomia è superiore questo è il motivo per cui tendenzialmente una batteria anche fisicamente più grossa permette di raggiungere capacità superiori ovviamente non è solamente una questione di dimensione perché poi come vedremo nelle prossime puntate nei prossimi video dedicati alle batterie ci sono soluzioni differenti che permettono anche con dimensioni più piccole mantenendo le stesse dimensioni di raggiungere capacità superiori la velocità di ricarica è definita dalla tecnologia stessa nel senso che con la chimica basata sul litio e con i materiali che compongono anodo e catodo e anche con l'elettrolita stesso quello che la sostanza in cui sono immersi diciamo questi componenti allo stato attuale quelle che vengono utilizzati oggi permettono una determinata velocità di carica che può cambiare in base all'amperaggio alla corrente che viene applicata alla batteria stessa al dispositivo e quindi alla batteria ha però una velocità di ricarica superiore quindi un amperaggio superiore e in generale questo concetto vale più la temperatura del dispositivo è alta più il processo di deterioramento della batteria è veloce perché le batterie a litio basate su questa chimica si deteriorano nel tempo i motivi per cui si deteriorano sono molti gli elementi stessi chimici utilizzati si degradano nel tempo o vanno a degradare comunque gli ioni di litio vanno a degradare per esempio il liano del catodo diminuendo la capacità di assorbire degli ioni di litio e quindi diminuendo la capacità totale della batteria questo degradamento come detto alle alte temperature è velocizzato nel tempo poi vi darò anche magari alla fine della sera alcuni consigli però uno su come preservare la durata la vita della batteria però uno ve lo dico già adesso utilizzare sistemi di ricarica veloce degrada nel tempo la batteria come vi ho appena detto per i motivi della temperatura quindi se voi non avete necessità di ricaricare velocemente un dispositivo utilizzare caricatori lenti abbassano il peraggio sicuramente aiutano a allungare la vita della batteria un'altra caratteristica delle batterie di litio per come sono fatte è che possono prendere fuoco possono esplodere addirittura i motivi per cui possono infiammarsi sono cortocircuiti sono su riscaldamento e anche il danneggiamento fisico proprio perché la chimica torniamo sempre a quel discorso utilizzata in determinate circostanze può creare delle soluzioni infiammabili e quindi di conseguenza poi in base alla situazione a un danneggiamento a dove si trovano si possono creare delle camere delle zone che si riempiono di queste soluzioni infiammabili fino ad arrivare al punto che esplodono abbiamo in verità insomma diciamo che non è che succede tutti i giorni i produttori utilizzano sistemi per evitare cortocircuiti per evitare surriscaldamenti e quant'altro però abbiamo visto che è già successo qualche volta è successo perché se il sistema anche di carica e di scarica è difettoso può creare soluzioni in cui la batteria di fatti prende fuoco si danneggia e può diventare anche pericolosa motivo per cui appunto come vi ho detto all'inizio i vari ricercatori stanno cercando soluzioni per rendere le batterie basate sulla chimica al litio più sicure da una parte ma che permettono anche una ricarica più veloce senza ovviamente le controindicazioni e una capacità superiore agendo sia sulla chimica che sull'anodo stesso che come vedremo anche sull'elettrolita quindi quella sostanza in cui si muovono all'interno le particelle che portano la carica quindi l'energia io direi che chiudo qua questo primo video così andiamo ad assimilare quelle che sono diciamo le informazioni base sul funzionamento di una batteria basata sulla chimica al litio ovviamente sto cercando di semplificare al massimo quindi qualche concetto se qualche esperto sta ascoltando potrebbe sembrare non troppo corretto ma lo faccio in virtù di una divulgazione alla portata di tutti sapete cosa fare? se avete dubbi scrivete qua sotto un pollice in su iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao